Il progetto L'Officina delle Nuvole Parlanti, presentato dall'Associazione Solidarietà e Missione Onlus, è uno dei progetti vincitori del bando di concorso Orizzonti Solidali 2015, promosso dalla Fondazione Megamark col patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al welfare. L'Officina delle Nuvole Parlanti è un laboratorio di fumetti e di animazione rivolto ai ragazzi della Comunità Educativa Sant'Antonio di Corato e agli studenti delle scuole superiori cittadine. È un Natale di solidarietà a Corato, grazie anche a questo progetto dell'Officina delle Nuvole Parlanti che servirà per aiutare tanti ragazzi. Sì, è il connubio necessario che ci deve stare tra il mondo dell'impresa, in questo caso la Fondazione Megamark, il Cavaliere Pomarico, quello che è il territorio. È importante che ci sia questo legame, è un'iniziativa lodevolissima dove mi risulta che le risorse messe a disposizione siano cospicue e servono soprattutto a dare un segnale di vicinanza e di fiducia, in particolare per quanto riguarda la nostra città, la comunità di Sant'Antonio, una comunità che ospita ragazzi e ragazze un po' meno fortunate per questioni familiari, e con questa chance, oltretutto legando anche la vita della comunità con quella che è l'innovazione tecnologica, ma anche col mondo della scuola, perché ci sarà quasi una specie di tutoraggio anche della scuola, delle scuole superiori, si potranno dare ulteriori segnali affinché i nostri cittadini, quelli un pochino più deboli, possano capire che c'è l'impegno di tanti altri, compresa l'amministrazione comunale, per dare loro delle possibilità di vita migliori e un futuro da costruersi con impegno, chiaramente sempre, ma con delle prospettive migliori. La Manga Market e la sua fondazione, di cui chiaramente è sostenuta dall'apporto della gentile clientela, che non mi stanco mai di ringraziare, perché attraverso poi loro e quindi attraverso i profitti che i supermercati DOC, Famila e EO, ci consente di passare questi contributi, questi aiuti, alle onnus del territorio, attraverso la fondazione. E con questa in particolare è ancora più interessante per il fatto che va a coinvolgere i ragazzi, i ragazzi meno fortunati. No, l'ha detto già, ci ha fatto una domanda e c'è la sintesi del problema, noi lo sentiamo tantissimo, perché tutte le volte che le onnus si interessano del futuro, delle fasci deboli, quindi dei ragazzi in particolare, ci tocca un po' di più e sono qui per testimoniare proprio questa sensibilità della fondazione che presiedo verso le onnus che fanno tantissimo e di cui va il mio personale. Grazie.